Ciao ragazzi, bentornati sul canale, primo video del 2024, ancora auguri a tutti, spero che sia l'anno migliore delle nostre vite. Non potevamo che aprirlo se non parlando, facendo spoiler dell'appuntamento più atteso in assoluto. Dal 1 gennaio è disponibile anche da noi, in versione doppiata, Il ragazzo è l'airone, l'ultima fatica di Hayao Miyazaki, un film che, vi anticipo subito, io ho trovato meraviglioso. Un film del quale, però, almeno fino a poco tempo fa, sapevamo poco o nulla. Se vi ricordate infatti la pellicola ha debuttato in Giappone lo scorso luglio, anticipata da una non campagna marketing. Nessun teaser, nessun trailer, nessuna immagine promozionale, solo una semplicissima locandina raffigurante lo sketch di un airone accompagnata dal titolo dell'opera, Kimi Tachiwado Ikiruka, letteralmente, e voi come vivrete. Titolo a sua volta del romanzo di Genzaburo Yoshino, dal quale sembrava che il film fosse tratto, e invece non è così. Il ragazzo è l'airone racconta una storia originale, il suo rapporto con il libro è pressoché quasi solo nel titolo, e certifica il legame tra Miyazaki e il romanzo, tanto da riproporlo all'interno dello stesso film come uno degli elementi più emblematici, il regalo che la madre del protagonista di Mahito lascia al ragazzo. Comunque sia, con l'annuncio dell'uscita del film nelle sale occidentali, sono iniziate a venire fuori le prime immagini, i primi trailer ufficiali, noi qualcuno l'abbiamo commentato anche qui sul canale. E vi dico la verità, se i trailer ci avevano fatto intuire, almeno sommariamente, le atmosfere, il tono, il tipo di storia, quello che mi sono trovato davanti una volta seduto in sala è stato spiazzante. Il ragazzo è l'airone non è il classico film di Miyazaki, è oggettivamente il suo film meno lineare, meno diretto, più metaforico, e forse quello assieme a Si alza il vento, in cui il maestro ha deciso di specchiarsi di più, in assoluto. E partiamo proprio da qui, dalla linearità e dai riferimenti autobiografici. Ora, il ragazzo è l'airone è una pellicola spaccata a metà. L'enorme preambolo, prima di entrare nel mondo fantastico della torre, rappresenta a tutti gli effetti, una metà di film. Ed è una metà molto meno caotica e molto più coesa rispetto a tutto quello che arriverà dopo. E al di là della semplice, bellissima e toccante storia del ragazzo, è una metà che si condisce di alcune scene tecnicamente ed emotivamente sensazionali. Personalmente, due su tutte mi hanno devastato. La scena della corsa verso l'incendio, che è dominata da animazioni, tra l'altro, molto poco miazzachiane, passatemi il termine. E la scena in cui Makito si ferisce colpendosi in testa con la pietra, magnifica soprattutto perché è completamente inaspettata. Molto molto bella è anche quella in cui lui sembra essere sommerso e riemerge dall'acqua e in realtà sta dormendo con l'acqua che si dissipa sul viso e sul cuscino. Comunque sia, in tutto questo si intuisce già che il film è un mosso da un tono diverso dagli altri. Si prende i suoi tempi, non corre, anzi, si sofferma su piccoli dettagli senza mettersi però a spiegare ogni minimo evento. Ed è mosso da un minimalismo che nessun altro film del regista ha mai esplorato in questo modo. Due esempi banali che però mi hanno davvero colpito nella prima visione. Uno, Makito dall'incidente dell'ospedale non parla. Per sentirlo pronunciare una frase completa dobbiamo aspettare tanto, tante scene. Due, la colonna sonora non è incalzante questa volta. Nei film di Miyazaki le musiche di Hisaishi sono sempre state protagoniste tanto quanto i personaggi. Hanno sempre scandito le sequenze, le scene. Questa volta invece, almeno nella prima metà, sono davvero solo dei brevi accompagnamenti, dei giri di piano molto semplici. Insomma, questi elementi combinati a delle atmosfere poco esuberanti, in un certo senso, fanno immediatamente capire che Il ragazzo e Lerone è un film particolare. È evidente, come è anche evidente per chi la conosce, la connessione della vicenda raccontata nel film alla biografia, alla vita reale di Hayao Miyazaki. Il padre di Makito lavora nel settore aeronautico, così come il padre del regista. Anche Miyazaki e la sua famiglia hanno vissuto il trasloco forzato a causa della guerra. Questo tema ricorrente dell'abbandono della madre, Miyazaki lo ha vissuto sulla propria pelle. Non per un lutto, come Makito, ma perché sua madre, Dola, non fu con lui dai 16 ai 14 anni, per ben 8 anni a causa della tubercolosi. Come Makito poi anche Miyazaki ha vissuto momenti pesantemente conflittuali con i suoi compagni, con i suoi pari d'età, da ragazzino. Ragazzi, questi sono soltanto spunti, perché al di là della questione meramente biografica, il ragazzo e il Lerone è pieno, ma pieno di riferimenti alla produzione, alla carriera, alla formazione e ai maestri di Miyazaki. C'è tanto di Hisao Attacata, ad esempio, ma ne parleremo più in là. Qui però devo fermarmi un attimo. Una delle varie critiche che ho sentito al film è stata la classica, ma io che non so nulla della vita del regista, perché dovrei interessarmene per capire meglio un film? Un film non dovrebbe essere comprensibile così com'è? Ammesso che io lo trovo un film tutt'altro che incomprensibile. Dico anche, non avete torto. Così come è anche però insindacabile la libertà di un autore ultraottantenne, che ha cambiato la storia dell'animazione per sempre, di parlare di quel cazzo che gli pare e di farlo come vuole. Il ragazzo e l'airone sembra davvero concepito quasi come per essere un lascito, in particolar modo al nipote. Come se l'ultimo film è del regista, nonostante forse poi fortunatamente non lo sarà. Vi dicevo, Miyazaki è riversato tanto di se stesso nel film. Ha fatto un'operazione simile a quella fatta in Sialze del Vento, ma portandola all'eccesso. E se a una parte di pubblico questo non interessa, c'è tutta un'altra fetta di appassionati che ama vedere un autore così giapponese nel suo modo di essere mettersi a nudo a 82 anni davanti a tutto il mondo. E se per comprendere meglio il film bisogna conoscere la sua storia, ben venga. Ma noi andiamo avanti. Dall'ingresso nella dimensione del prozio, la pellicola cambia decisamente ritmo e non solo. Quella coesione nelle scene tende a perdersi in favore di una narrazione molto più frammentaria, meno lineare, nonostante sia un film che non faccia particolari giri temporali. Anzi, è come se in quel mondo tutto fosse lecito e lo spazio e il tempo perdessero valore. Quindi vediamo ad esempio Makito raggiungere il canale che porta all'atrio dove lo zio sta impilando le pietre in un modo che non conosciamo direttamente, ma risvegliandosi lì davanti. È pieno di momenti di questo tipo e molti per questo motivo lo hanno definito un film confuso, difficile da seguire. In realtà io ho trovato personalmente queste le soluzioni migliori di tutta la pellicola. È spesante e raro trovarsi davanti a un film ghibri che per una volta non ti porta mano per mano scena dopo scena. Perché alcuni, non tutti, alcuni sono molto didascalici. Questo non lo è. Qui non sai mai che cosa sta per succedere e infatti succede di tutto. Il mondo marino è governato da regole che non conosciamo, è sospeso nello spazio nel tempo. Non è un'altra realtà uguale alla nostra. Tra l'altro tutti questi sono espedienti perfetti per far fare a Makito un viaggio non per forza legato ad un sentiero anche fisico da seguire e facendoci quindi esplorare molti luoghi senza doverli per forza legare tra loro. In questo senso ho amato ad esempio l'isola della tomba, lo switch verso la sala del parto e la scena che contiene. Anche qui a molti l'atteggiamento di Natsuko in quella scena è sembrato ingiustificato. Perché rifiuta Makito e dice di odiarlo? Ma perché nel profondo è come se lei sapesse di essere un impedimento alla sua felicità. La non accettazione di Natsuko come nuova madre da parte di Makito è il grande tema del film, è evidente sin dall'inizio per tutta la prima metà. Non c'è bisogno che venga spiegata. È come se lei la accettasse andando via dal mondo di Makito. Scena tra l'altro catartica perché è lì che il ragazzo cambia, che chiama Natsuko mamma Natsuko per la prima volta. Non deve essere tutto per forza spiegato. Il ragazzo e l'erone non è Princess Mononoke, non è Ponyo, non è neanche la città incantata. Grandissimi film che io amo ma molto più semplici di questo. È sì una tutto sommato classica storia di formazione ma è molto più profonda e molto più sincera in un certo senso. Però noi andiamo avanti. Prima di spostarci sulle reference, che sono tantissime, tocca parlare del prozio e di questo mondo che lui ha creato, che da un certo punto in poi è il vero centro del film. Mentre lo guardavo pensavo banalmente che Miyazaki stesso si fosse riversato in questa figura così enigmatica dello zio. Il mondo da lui creato è quello dei suoi film, della sua fantasia. Tra l'altro c'è anche tutto il discorso dell'eredità, una ricerca alla fine del film vana e Miyazaki non ha un vero erede. Certo c'è Goro, il figlio, ma ha già dimostrato di non seguire la linea del padre. I racconti di Terramare fu un discreto esordio, ovvero, ma con Erwig la strega si è forse dimostrato definitivamente quanto Goro sia lontano da Hayao. C'è stato Yoshifumi Kondo, considerato un astro nascente, che proprio su sceneggiatura di Miyazaki diede vita al magnifico I sospiri del mio cuore. Ma Yoshifumi Kondo è morto a 48 anni, ed è morto probabilmente per condizioni di salute deteriorate proprio dal troppo lavoro. Tema tra l'altro questo che è una piaga del mondo dei mangaka e animatori, ma ne parleremo in altri video. Quindi chi è l'ereditiero creativo di Miyazaki? Semplicemente le decine di animatori, registi, sceneggiatori che hanno seguito e seguono tuttora le sue orme. Quindi per questa mancanza e anche per questa forte vena misantropica che Miyazaki non ha mai negato di avere. Ho pensato che lui si fosse riversato, si fosse un po' riscritto in questo personaggio dello zio, e magari probabilmente anche così. Però poi andandomi ad informare, mi hanno colpito molto delle parole di Toshio Suzuki, uno dei fondatori dello studio Ghibli, in merito al film. Sembra infatti che recentemente abbia ammesso che una delle ispirazioni maggiori dietro alla figura del prozio, altri non è che Isao Takata, mentore, scopritore, collega di Miyazaki. Una delle personalità più prominenti nell'enorme storia dell'animazione giapponese e non solo. E forse è proprio così. Questo personaggio rappresenta contemporaneamente Takahata e Miyazaki, coloro che più di tutti hanno plasmato il mondo Ghibli. Anche se sempre Suzuki, forse l'uomo che professionalmente li ha conosciuti di più entrambi, ha ammesso che Miyazaki si rivedeva, oltre che in Makito ovviamente, nella figura del duca dei parrocchetti. E se questo è forse il collegamento più difficile in assoluto da carpire, proprio per la natura stessa del personaggio che ha pochissime scene on screen, il rapporto tendenzialmente conflittuale che il duca ha con il prozio richiama molto il reale rapporto di vita e di professione tra Miyazaki e Takahata. I due, nonostante una vita di lavoro assieme, hanno avuto molti momenti di divergenza. Miyazaki arrivò tanti anni fa addirittura a dire di rivolere da Takahata indietro gli anni che lui gli aveva preso. Però questo è soltanto un esempio, stiamo parlando di uno dei rapporti più particolari e fruttuosi della storia dell'animazione. E sinceramente, sinceramente mi aspettavo di trovare qualcosa di Takahata in questo film, perché questo è il primo film diretto dal maestro Miyazaki dopo la morte di Takahata avvenuta nel 2018. E senza neanche spingersi in questo mondo di interpretazione di personaggi ho trovato sparsi quella diversi tributi alla produzione di Takahata, in particolar modo a quello che è il suo grande capolavoro assieme alla principessa splendente, ovvero sia una tomba per le lucciole. L'incendio che apre il film è condito da alcune sequenze che mi hanno davvero ricordato la pioggia di bombe di Takahata, cosa che ricordiamo il regista ha vissuto in prima persona tra l'altro. Anche la scena della corsa di Mahito è molto simile alla prima scena della calca, ma al di là di questo basta guardare lo stesso Mahito. È vestito per il 90% del film con gli stessi indumenti che veste Seita, perde addirittura la giacca e rimane in canottiera per tutta la fine del film. Ma dato che abbiamo aperto il vaso di Pandora, chiudiamo prima di concludere il video, il ragazzo e l'airone è pieno zeppo di riferimenti ad altri lavori libri e non solo. Alcuni sono più palesi, altri più nascosti. Miyazaki questa volta ha deciso veramente di citarsi. Non me lo aspettavo. È impossibile ad esempio non collegare l'attacco della sala parto con quello degli omini di carta a Ciciro e Aku nella città incantata. Quella fila di navi dei morti, bellissime tra l'altro, richiama immediatamente la scia degli aerei dei soldati caduti in porco rosso. Il costrutto della madre di Mahito che si liquefanno appena il ragazzo la tocca ricorda una scena molto simile nel castello errante di Aul, quando Sophie tocca un Aul completamente depresso che inizia a sciogliersi. Altre cose un pochino più piccole come le onde dell'oceano che iniziano ad incresparsi mentre la dimensione dell'ozio si sta spaccando ricordano molto l'amareggiata di Ponyo sulla scogliera e non ci si è limitati ai soli film di Miyazaki. Il racconto del passato dell'ozio e della madre ad esempio, che ci vengono mostrati come sagome completamente nere, è un espediente già usato nei sospiri del mio cuore di Yoshifumi Kondo o ancora fuori dal mondo Ghibli. La tomba contornata dai cipressi è un palese richiamo all'isola dei morti di Boklin. Quadro tra l'altro che per Miyazaki deve avere un qualche significato specifico perché già riproposto Inzi alza il vento su uno sfondo in una delle scene tra l'altro più belle dell'opera. Ancora abbiamo i colonnati gialli speculari che portano alla stanza dell'atrio del prozio che sembrano sinceramente quelli di De Chirico e infatti qui arriviamo ad un altro punto fondamentale. Il ragazzo e l'airone è visivamente un film maestoso. Alcuni setting io personalmente li trovo tra i migliori dell'intera produzione mia zackiana, l'interno della torre e la casa sul mare in cui Kimi porta Makito su tutti per non parlare poi ovviamente dell'enorme teruta di Natsuko spettacolare. Anche se alcune piccole scelte non mi sono tanto piaciute ma parlo proprio di nezze, di sfondi come ad esempio quello che troviamo alle spalle di Makito prima di entrare appunto nel canale che poi porterà alla stanza del prozio con dei piccoli elementi che sembravano addirittura in CGI sfocati non lo so però tendenzialmente è un film visivamente bellissimo. Ti riempie proprio nonostante alla fine non vengano utilizzati set edifici luoghi particolarmente lontani da quelli reali ma forse proprio per questo e per come sono posizionati in questo mondo marino sono ancora più forti vengono percepiti molto dallo spettatore. Insomma ragazzi potremmo stare qui a parlare per ore probabilmente non diremo neanche tutto quello che c'è da dire. Io volevo aggiungere qualcos'altro però non volevo spingermi troppo in mie interpretazioni in particolar modo verso i personaggi. Questo era quello che ho carpito ho sentito uscendo dalla sala e documentandomi poi. Non so sinceramente quante altre volte lo vedrò almeno un paio. Poi al di là di tutti i sottotesti un commento finale avrete capito che a me il film ha piatto impiazzire mi è piaciuto veramente tanto. Capisco molto bene le perplessità che devo dire la verità ho sentito arrivare per lo più da un pubblico un po generalista. Molti hanno trovato il film lento e slegato che vuol dire tutto e nulla alcuni dei film migliori che abbiamo visto sono lenti anche quelli live action. Questo è un viaggio raccontato da un maestro un viaggio attraverso la sua poetica attraverso decadi di produzione. Bisogna solo lasciarsi trasportare dal film rimanendo però vigili perché è un film che non imbocca lo spettatore e va bene così cazzo. Rimangono punti interrogativi? Sì sicuramente ma non lo trovo un difetto. Anzi il film riesce anche a chiudere il cerchio attorno a Maito in un finale sicuramente positivo. È davvero una sorta di percorso di formazione dell'eroe ancora una volta. Solo molto più astratto, molto più intimo e che parte da una situazione iniziale tutt'altro che banale. I problemi che deve risolvere Maito sono veri. L'elaborazione del lutto più pesante in assoluto e l'accettazione della nuova madre. Non so personalmente dove metterei il ragazzo e l'erone in una personale classifica dei film Ghibli. Sicuramente in una posizione molto alta anche se non mi ha dato al 100% le stesse sensazioni che mi ha dato Si alza il vento che reputo il suo film migliore o almeno quello che io preferisco. In generale uno dei migliori film che abbia mai visto. In qualsiasi caso sono molto contento che il film sia andando bene anche in Italia. Tantissimi di voi sono andati nelle sale e adesso infatti voglio sapere il vostro parere sulla pellicola. Quindi ci sentiamo nei commenti. In descrizione come sempre trovate tutte le pagine social. Dategli un'occhiata perché si parla quotidianamente di tanti manga e anime che non ho veramente il tempo di portare qui sul canale. Cosa più importante però iscrivetevi al canale. Il vostro supporto è vitale. Detto questo noi ci salutiamo. Grazie di avermi seguito fin qui. Ci vediamo al prossimo video.